Buongiorno signorina. Buongiorno. Mi da Ceresina? Ceresina? Ceresina. Cerca Ceresina. E forse quel nuovo farmaco che è arrivato. Niente. Cos'è signorina? Un antistaminico? No, è una pillola. Allora, cerca Teresina? Ceresina. 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 Niente signorina, si ricorda bene il nome? Mettono sti nomi complicati, mettono sti nomi così complicati. Che è una pillola. E certo. E a lei serve solo per quello, certo. Serve solo per una cosa. La pillola, si. E certo, certo. Ah, ecco. Abbiamo trovato. Signorina. E Ceresina. 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 Ah. Ha messo K.O. tutti, signorina, questa pillola. Grazie. 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 Grazie.